un carico pendente dovevo essere assunto da una ditta di trasporti e mi hanno chiesto di fare i documenti nel certificato avevo un carico pendente per una causa ancora in corso e mi hanno detto che per l'assunzione dovevo aspettare l'esito della causa ma quando sono stato assolto per insufficienza di prove mi hanno detto che i tipi come me non li accettavano lo stesso ma è possibile che la violenza della società non debba mai cessare mi sento crepare se penso a quello che mi hanno fatto quante ingiustizie sono nascoste nella scorsa della società uno che ha sbagliato anche una sola volta deve rimanere per sempre come un'onda che sbatte contro l'onda al mio paese c'è un proverbio che dice alla vacca sazia suona di meno la campana al collo ma io non sono sazio e perciò faccio rumore e sono andato ad iscrivermi all'ufficio di collocamento con al collo un cartello di protesta questo prima degli insulti commento siamo noi che creiamo percepiamo l'esperienza chiamata assunzione e siamo sempre noi che creiamo percepiamo la società così come è tutti gli individui che in questo momento sono incarnati con noi per il fatto stesso che creano percepiscono la stessa realtà appartengono alla nostra stessa gamma di sentire ossia alla nostra fascia evolutiva l'evoluzione dei singoli e delle collettività è come un fascio di luce acceso in una stanza buia che illumina cioè crea percepisce solo alcuni oggetti presenti nella stanza quelli che riesce a illuminare questo è il motivo per cui la nostra società così com'è è quella che ci meritiamo